La storia del crogiolo risale a miliardi di anni fa e parla di accadimenti che hanno gettato le fondamenta dove poi sono stati eretti i pilastri della società odierna. Gli avi che vissero qui provando sulla loro pelle il primo soffio di vento, osservando la prima ruggiada e godendo dei primi raggi dei soli che orbitano attorno al nostro pianeta, hanno lasciato un segno indelebile del loro passaggio. Alcuni dei loro discendenti sono ancora presenti tra noi e continuano l'opera iniziata ere fa, mentre altri, purtroppo, hanno ceduto al tempo ed il loro ricordo giace nel cimitero assieme alle spoglie, a testimonianza del passato. Quest'oggi quindi mi sono recato nella necropoli e passeggiando tra le tombe per onorare coloro che hanno contribuito attivamente alla creazione del presente, mi sono soffermato su una lapide e di me si è acceso un ricordo. Benvenuti in questa prima puntata di Trading Card Graveyard. Quest'oggi vi parlerò di uno dei primi venuti, il TCG di Harry Potter. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Pubblicato sulla scia del successo dovuto dai primi famosissimi romanzi fantasy omonimi che hanno appassionato milioni di lettori, il gioco di carte di Harry Potter offriva una dinamica ai diversi studenti della scuola di magia più famosa al mondo davvero interessante. Da quando è stato reso disponibile al pubblico il primo set, ovvero quello base, fino al 2003, data di cessazione della produzione, di espansioni ne sono seguite quattro. Quidditch Cup, Diagon Alley, Adventures at Hogwarts e l'ultimo in termini temporali, Chambers of Secret. Ognuna di esse ha introdotto nuove meccaniche, dando così la possibilità ad ogni giocatore di usufruire di ben otto tipologie di carte diverse. Le creature, gli incantesimi, i personaggi, le avventure, gli oggetti, le partite, le location ed infine le elezioni. Queste ultime a loro volta possedevano cinque sottocategorie con relativi colori. Care of the Magical Creature, marrone, charms, blu, potion, verde, quidditch, giallo e transfiguration, rosso. Da come avete sicuramente intuito, le elezioni fungevano come una sorta di mana e se ne potevano avere senza limiti in un deck anche di tonalità diverse. Ognuna di esse svolgeva un compito ben preciso e poteva essere utilizzata per impiegare una determinata tipologia di carta. Ad esempio la Charms poteva permettere di giocare incantesimi oggetti e luoghi ed era specializzata in danni a bassa portata ma versatili ed in più consentiva di tutorare il deck alla ricerca di elementi utili per lo svolgimento della propria strategia. Quindi per giocare una carta come Charms XM bisognava pagare ben sette lezioni tra le quali almeno una doveva corrispondere a quella richiesta nell'angolo in alto a sinistra. Quindi in questo caso potevano essere addirittura sei potion ed una Charm. Non era necessario tapparle come in Magic, bastava averle sul terreno. Eh, Arconte, ma sette turni per una carta? In realtà minimo tre, ma capiamo meglio come si svolgeva un turno di gioco partendo però dalla preparazione ad un match. La prima cosa da fare era scegliere un mazzo con cui giocare, composto da esattamente 60 carte. Per poi posizionare la carta mago o strega ai quali panni si volevano vestire scoperta sul terreno, una sorta di campione o leader odierno, presenti rispettivamente in Flesh and Blood o One Piece, con effetto da innescare all'occorrenza. Una volta mescolato il deck si andavano poi a pescare sette carte ed infine, attraverso un sistema casuale, si sarebbe deciso chi avrebbe dato inizio alla partita. Quindi nello svolgimento di un turno di gioco la prima cosa da fare era innescare un qualsiasi effetto prima di pescare una carta, tipo abilità che indicavano specificatamente nel testo, prima della Draw Face fai quest'azione o quest'altra, poi risolto il tutto si procedeva a pescare per l'appunto dal proprio deck. A questo punto si scagliava contro l'avversario ogni carta creatura che poteva arricare danno al proprio rivale danneggiandone il deck stesso. In che senso danneggiando il deck? Già in Harry Potter non sono mai stati utilizzati punti vita, ma danni diretti al mazzo avversario. Ogni volta che una creatura infliggeva un danno, indicato nel proprio box di testo, quel irrispettivo a montare di danni veniva tramutato in carte da scartare dalla cima del deck avversario. Il primo giocatore che mandava a zero l'avversario veniva proclamato vincitore dell'incontro. Le creature inoltre non combattevano tra loro, a meno che non venisse specificato, ed una volta scese in campo rimanevano lì, fino a quando non venivano distrutte da incantesimi o altre fonti magiche. A questo punto quindi si passava a svolgere due azioni, si poteva eseguire anche la stessa invece che compierne due diverse, ed erano giocare una carta lezione, oppure giocare una carta creatura, oppure giocare una carta incantesimo, oppure giocare una carta oggetto, oppure giocare una carta partita, oppure giocare una carta luogo, oppure pescare una carta extra dal deck. Si dovevano invece necessariamente utilizzare due cariche azione per giocare una carta avventura, oppure giocare una carta personaggio. Una volta terminate le cariche, si passava ad innescare le abilità attivabili alla fine del turno, per poi cedere la mano all'avversario che avrebbe svolto ogni singolo passaggio partendo dal primo punto e così via. Nel mentre la partita sarebbe andata avanti, potevano essere utilizzate le carte match, che una volta risolto l'effetto principale, prevedevano un premio da riscuotere a seconda di chi fosse arrivato prima alla meta, avventura con la stessa dinamica di gioco ma rivolta all'avversario per rallentarlo, e location per favorire il proprio processo di svolgimento durante la partita. In più, ogni tipologia di carta in questione aveva delle regole ben precise da seguire. Ad esempio, la tipologia partita restava sul terreno fino a quando uno dei due giocatori non vinceva il premio, le avventure idem comparate e le location fino a quando non veniva giocata un'altra location o dalla propria mano o dall'avversario. Per quanto riguarda invece gli incantesimi, essi venivano mostrati a chi vi giocava contro ed una volta risolto il loro effetto andavano direttamente nella pila degli scarti. Gli oggetti erano permanenti che fornivano risorse extra di solito pagando un costo e dolci sin fundo i personaggi che se giocati dalla mano attraverso l'utilizzo di due cariche azione affiancavano il mago o la strega che vi rappresentava nella battaglia contro le forze oscure. A differenza del proprio personaggio tuttavia, quello che mettevate ad inizio partita che non poteva essere bersagliato da abilità che permettevano ad un qualsiasi giocatore di eliminare carte dal terreno, questi invece potevano essere scartati dal campo di battaglia se richiesto da un effetto. In pratica erano in tutto e per tutto considerate come carte giocate dalla mano, ed in effetti lo erano. Insomma, un gioco di carte così aveva messo le basi per un nuovo stile strategico, però purtroppo, dopo solamente due anni dalla sua pubblicazione, la Wizard of the Coast, la casa madre che ne creava le carte, decise di interrompere la produzione. E da quel momento del gioco non si seppe più nulla, fino al 2015, dove annualmente al Gen Con si organizzano tuttora tornei amatoriali, quindi non ufficiali di questo meraviglioso TCG. Di cose da dire ce ne sarebbero ancora molte, i ricordi si affollano e vorrei parlarvi di questo titolo ancora e ancora, ma preferisco che ripercorriate da voi la storia, andando a conoscere quel che è stato il GCC di Harry Potter per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di testarne le dinamiche. Vi lascerò ogni fonte, come sempre, in descrizione. Bene, torno a palazzo delle faccende da sbrigare, ma mi auguro che sarete ancora qui con me a farmi compagnia la prossima volta, viaggiando a ritroso nel tempo, riaccendendo vecchie memorie. A presto!